Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video volevo fare un video Cambio della Bambola Reborn Di nome Zoe Io ne ho due, oggi ne cambieremo una Domani invece cambieremo l'altra Bene, iniziamo! Lei è Zoe Guardatela Se la volete vedere meglio, scrivetemelo e io ve la faccio vedere E' fatta molto bene E purtroppo l'estate è finita da un po' E qua incomincia a fare freddo E quindi oggi la cambieremo insieme E la cambieremo, ecco Per vestirla un po' più caldina Allora, oggi le metterò Questi pantaloni Con le calzine Una cosa semplice, ecco E questa maglietta Quest'azio Per il babò Con le bici che mi ha regalato la mia amica Che purtroppo si è fatta male Quindi ha le stampelle E la saluto E poi c'è il ciuccio E lascio la pascetta Bene, iniziamo Andiamola Scusate se sentite dei rumori Ma stanno lavando la casa Con l'aspirapolvere Eccola Questo è il suo body Comunque lei è prematura, ecco Se non l'avete capito Perché è piccolino Togliamo le calze Sì, ma voi non potete capire Che piedini ha Guardate Che bello è questo piede È bellissima Davvero Ecco Ok Adesso cominciamo Ok Spero che si veda Ecco Gliel'ho messi Ok Poi Continuiamo Ok 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 guardate quanto è carino ecco mettiamo questa fascia che è arrivata con lei però purtroppo si era staccato tipo un fiocco e quindi l'ho dovuto cambiare ok scusate mettiamo il suo ciuccio che è arrivato con lei quella che ha l'amito ecco adesso può essere un po' più riscaldata perché prima era tutta l'estate ok bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spallizzate tutto il mondo e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao